Io sono il ritratto di Agnolo Doni, sono un dipinto a olio su tavola di 65x45 cm di Raffaello Sanzio, sono datato il 1506 circa e sono conservato negli uffizi a Firenze. Venni commissionato dallo stesso Agnolo Doni, un ricco mercante assieme al ritratto di sua moglie, Maddalena Strozzi. Sono un ritratto a mezza figura, seduto su un balcone con dietro un panorama. Sono un ritratto col busto di tre quarti verso destra e lo sguardo rivolto verso lo spettatore.